spirituale, di argomenti olistici. Oggi giornata intensa per me, per voi lo è sempre, perché sono sempre tante le dirette che questo gruppo, soprattutto nelle vesti di Gaetano e di Silvia, ecco, riescono a mettere insieme, no? Tanti relatori, tanti argomenti interessanti e oggi appunto ci siamo già incontrati alle 15 per un viaggio nei luoghi sacri e dell'energia dell'Egitto, su cui torneremo anche venerdì sempre alle 15 e poi c'è stato Bridges of Light International e adesso eccoci per la diretta serale, è un appuntamento che ci vede due volte al mese e questa sera vi voglio proporre ancora l'argomento iniziato, la scorsa diretta, lo scorso live serale che era quello delle stelle dell'amore e così continuiamo questo viaggio fra le stelle dell'amore che avevo anche visto, aveva entusiasmato parecchio, aveva destato diverso interesse, però questa volta ci occupiamo non del comportamento e atteggiamento in amore dei segni che era appunto l'argomento della scorsa volta e che abbiamo comunque visto piuttosto profondamente, ma questa volta invece parliamo proprio delle affinità di coppia e quindi quali sono le affinità fra i segni, quindi quali segni sono maggiormente in sintonia, quali invece presentano più punti ostici fra di loro, perché una relazione quindi può funzionare e un'altra invece incontra delle difficoltà e faremo questo anche attraverso un esempio di una coppia molto nota che però vi svelerò verso la fine della nostra diretta. Intanto vedo appunto i primi collegamenti, vedo Patrizia che saluto, buonasera Patrizia, Marianna buonasera, ciao e vado sul mio telefonino che mi permette di vedere chi si collega, ritrovo Evagna che è una studiosa di astrologia e quindi grazie per essere qui, ci siamo già incontrate del pomeriggio e vedo Denis, ciao Sergio, anche ti saluto, Angelino, ciao Angelino, è un po' che non ci vedevamo su questo schermo ma mi sembra che l'amore ti intrighi moltissimo e quindi vedo che sei presente quando si parla di stelle dell'amore e vedo anche la carissima Michela, ciao, benvenuta anche a te, buonasera a tutti e anche Roberta, la carissima Roberta che segue spesso appunto le mie dirette, i miei interventi. Ecco adesso man mano so che altre persone si collegheranno quindi non voglio subito entrare nel vivo appunto della nostra... ecco Paola, ciao Paola, ciao Giulia, un bacione anche a te, un bacione a tutti, ve lo mando proprio dal cuore, per me è sempre molto bello essere qui, avrete notato che comunque sempre con molta gioia vi ritrovo e mi piace proprio condividere con voi. Un po' questo mi riporta ai miei anni giovanissimi quando c'erano le prime radio private che nascevano sul territorio e per un periodo, io ero una grande appassionata di musica nell'età giovanile, anche adesso mi piace però diciamo la seguivo veramente tanto quando ero appunto nell'età teenager e quindi avevo avuto l'opportunità di fare un periodo, una mia trasmissione musicale su una di queste primissime radio ed era bellissimo incontrare appunto gli ascoltatori, io abitavo in quel periodo nella Val di Susa ed era nata questa piccola radio, veramente proprio una delle primissime ed era molto bello trovarsi in questa stanza ovattata, c'erano ancora i long plane, mettere i long plane e facendo il crack con la puntina ed era veramente una delizia. E adesso invece ecco questo Bridges of Light un po' mi ha riportato da quando ho cominciato a quel periodo e quindi anche questo per me è una gioia. Vabbè detto questo inciso un po' personale, intanto vedo che altri si stanno collegando e saluto Emiliano, ciao Anna Paola, c'è Valentina, Stefania, bello ritrovarvi tutti qua. Bene allora cominciamo un po' introdurci nella diretta di questa sera, introduco un po' presentando l'astrologia, come vede, come analizza appunto i rapporti d'amore. Lo fa certamente attraverso il tema natale perché il tema natale comunque che riporta i pianeti con cui noi nasciamo e la disposizione di questi pianeti nei segni ci dice molto sull'atteggiamento in amore, il comportamento in amore che può avere un soggetto. Noi abbiamo appunto fatto un escursus nello scorso incontro a questo proposito e avevamo visto insieme come ogni segno tende ad approcciarsi all'amore perché certamente ci sono delle caratteristiche in ognuno dei segni. Ogni segno zodiacale rappresenta delle caratteristiche che sono caratteristiche legate all'essere umano e sapientemente gli antichi grandi osservatori avevano proprio notato che a seconda del periodo stagionale e quindi della costellazione a cui uno era collegato ci si poteva effettivamente tracciare un quadro della personalità. Bene, quando si guarda comunque in un tema natale come potrà essere il destino in amore o l'atteggiamento, il comportamento del soggetto oltre ad analizzare quello che è il segno di nascita che è un'impronta fondamentale, si guarda comunque anche l'ascendente che è un'altra impronta fondamentale, anche quella aggiunge in questo cocktail, immaginiamolo proprio un cocktail dove mettiamo dentro tanti elementi, scuotiamo questo cocktail che ci darà la totalità, l'insieme appunto della personalità. Quindi aggiungiamo l'ascendente che dona altre caratteristiche, aggiungiamo il pianeta venere che è proprio legato all'affettività e anche si guarda nel tema natale che è diviso in 12 parti, in 12 spazi chiamati case e questi spazi, queste case rappresentano come le energie si manifestano qui su questo piano terreno. Ogni casa è collegata a i diversi aspetti appunto della vita. Quindi si guarda anche per esempio la settima casa che è quella opposta all'ascendente, è il cosiddetto discendente che ci mostra un po' il destino di coppia, il destino nel matrimonio o nelle convivenze o nei fidanzamenti, proprio il destino di coppia, come sarà nella nostra vita. E poi c'è anche in effetti un'altra casa interessante, è la casa 5, che invece ci mostra come il soggetto tende a vivere l'amore al di là di quello che è il contratto, il vivere insieme, ma proprio l'amore visto nel suo senso più generale. Perché ognuno di noi ha un po' una sua visione, no? Un suo modo di vedere l'amore. Quindi questo è proprio l'analisi che si fa. Poi c'è anche la parte che si vede più legata anche alla sfera sessuale, che nelle donne è maggiormente correlata al pianeta Venere, mentre per l'uomo al pianeta Marte. Però quello che è molto interessante appunto quando si approccia l'astrologia dell'amore è anche vedere le affinità di coppia, no? E queste si vedono come, mettendo a confronto i temi natali delle due persone interessate, e si fa la cosiddetta sinastria. Quindi c'è proprio questo confronto e si vede appunto se i segni, i pianeti fra quelle due persone sono in sintonia, in quale percentuale possono esserlo, oppure se c'è una distonia piuttosto fra queste persone, no? Quindi ci dice molte cose appunto sulle possibilità che questa coppia ha di funzionare. Certo è che in questo confronto bisogna dire che al di là poi di quelle che sono le affinità, e adesso vedremo, non possiamo certo fare i temi natali, farò un esempio, farò un esempio appunto di due personaggi noti, però ecco che possiamo già vedere tra i segni, no? Fra di loro appunto quali affinità ci sono o meno. Quando però si fa appunto una affinità, ecco quello che voglio dire e sottolineare è che se anche a volte non c'è magari subito una grandissima affinità fra i segni, bisogna dire, fra due temi natali, bisogna però dire appunto che a volte la coppia può funzionare comunque perché dipende anche proprio dal nostro impegno, dalla nostra volontà anche a far funzionare una coppia, no? E molte volte la coppia è proprio uno stimolo, una spinta alla crescita, alla nostra evoluzione personale, per cui ecco che a volte appunto anche se non ci sono tante sintonie, la coppia però può andare avanti benissimo proprio perché si impegna e riesce a smussare quelle parti magari un pochino ostiche. Bene, a questo punto direi che possiamo cominciare proprio il nostro viaggio dando ancora il benvenuto a coloro che sono presenti qui e anche a chi magari si collegherà fra un po' o rivedrà comunque questa serata, questa diretta indifferita. Quindi iniziamo un po' questo viaggio fra le affinità di coppia. Allora, intanto vorrei iniziare dicendo che due persone che si incontrano e che appartengono allo stesso segno zodiacale, bene, questo tipo di rapporto può funzionare molto bene e questo perché? Perché? Perché in ogni caso le due persone si somigliano, le due persone hanno molti tratti in comune, pertanto queste due persone si riconoscono proprio, no? E può andare quindi anche molto bene un rapporto proprio fra due segni uguali. In effetti facendo delle statistiche si è visto che ce ne sono diversi di matrimoni tra persone che appartengono allo stesso segno. Uno potrebbe magari anche dire però, magari un po' noioso quando apparteniamo allo stesso segno, no? Però noi non siamo solamente il nostro segno zodiacale, come ci insegna bene il tema natale, no? Siamo tante vibrazioni diverse, no? Rispetto a questo e quindi abbiamo comunque tutta quella varietà che è utile proprio in una coppia perché ci sia comunque vivacità, ci sia stimolo, no? Ci sia comunque questa evoluzione e questa crescita insieme perché credo proprio che niente come un rapporto di coppia ci aiuti davvero a crescere perché siamo continuamente confrontati, no? Soprattutto poi quando la coppia si mette insieme, vive insieme, quindi deve confrontarsi con la quotidianità o quando mette al mondo dei figli e quindi ci sono anche delle responsabilità che entrano in gioco. Bene, dobbiamo poi anche tenere presente che comunque questi segni simili possono funzionare molto bene nelle amicizie, no? Proprio perché ci sono tante tante cose in comune, quindi le amicizie fra segni simili spesso funzionano veramente molto molto bene. Quando arriviamo invece, vabbè, ai due segni che sono vicini, ecco qui, eh? No, non sono elencati, esatto. Adesso magari togliamo un attimo questa slide, Enrico, scusa. Enrico mi è sempre dietro alla regia perché non è la slide giusta. Allora, volevo dire questo. Quando invece i segni sono vicini e pertanto, facciamo un esempio, no? Nella ruota dello zodiaco intendo. Quindi per esempio abbiamo l'ariete con il toro, oppure l'ariete con il segno precedente che è quello dei pesci, o facciamo un altro esempio, leone. Leone, i segni più vicini sono da un lato il cancro e dall'altro la vergine, no? Quindi proprio procedendo sulla ruota dello zodiaco. Questi segni sono a 30 gradi. Ecco, i segni a 30 gradi sono diversissimi fra di loro, veramente diversi. Appartengono intanto già ad elementi diversi che denotano già delle differenze, ma poi hanno proprio un comportamento, un atteggiamento completamente diverso, no? Se noi facciamo, prendiamo un esempio, ariete e toro. L'ariete è fuoco, no? Propulsivo, va sempre avanti, vivace, vuole fare mille cose. Il toro di terra, invece, è un segno pratico, concreto, che vuole sicurezza, stabilità, spesso molto tradizionalista, non ama i cambiamenti, no? Quindi veramente a volte pigro, lento, quindi tutto il contrario dell'ariete che va a mille, ma pensiamo anche toro e gemelli, lo stesso, no? I gemelli vivacissimi, si disperdono in mille interessi, mente molto aperta, no? E il toro, appunto, lento, graduale, quindi veramente diversi. Quindi può essere abbastanza complesso il rapporto fra questi segni, no? Perché c'è proprio questa diversità di fondo. Ma è anche vero che l'uno impara tantissimo dall'altro, no? E quindi, per esempio, non so, gemelli e toro, i gemelli possono anche ogni tanto frenarsi un attimino, fermarsi un po' di più ad assaporare le cose, così come il toro può essere stimolato a sperimentare di più nella vita. Quindi ecco che fungono proprio da pungolo l'uno verso l'altro, no? E quindi diciamo che hanno molto, appunto, da apprendere l'uno dall'altro, no? Al tempo stesso bisogna anche dire questo, che i segni che si trovano vicini, che quindi sono nelle stagioni vicine, spesso hanno altri pianeti, i pianeti veloci in particolare, quindi mi riferisco qui a Mercurio, che rappresenta la comunicazione, il tipo di intelligenza, mi riferisco proprio a venere, l'affettività, a volte hanno questi pianeti, appunto, vicini, magari nello stesso segno. Cosa intendo dire con questo? Che, per esempio, magari una persona del toro può avere un mercurio in gemelli o la venere in gemelli, quindi si possono assomigliare un po' di più, oppure un gemelli può avere una venere in toro e quindi esserci dei punti di contatto in comune e quindi poi alla fine, in questo caso, ecco che le due persone si riconoscono di più, proprio perché hanno alcuni tratti simili e quindi molte volte anche qui il rapporto può funzionare in effetti bene. Intanto poi io vedo anche se c'è qualche appunto da parte vostra o eventualmente qualche domanda, no? Sì, intanto guardo un attimo se c'è qualcosa qui. Vedremo, insomma. No, adesso siamo ancora agli inizi. Allora, andiamo pure avanti Enrico e vediamo la slide seguente. Allora, il sestile, anche se qui ho visto che, vabbè, Enrico facendo oggi un po' velocemente questo grafico ha messo 30 gradi, no? 30 gradi sono quelli precedenti, il sestile 60 gradi, comunque scusate, sono cose che possono succedere a volte. Comunque il sestile, come si dice in astrologia, questo aspetto geometrico, perché l'astrologia, quello che è anche bello, è proprio, che è molto ordinata e quindi c'è anche una suddivisione per aspetti geometrici, no? Ecco, il sestile sono 60 gradi fra di loro i segni. E qui avete la tabella, no? Ad esempio, Ariete fa sestile con gemelli e acquario. Oppure, vediamo un altro segno, la Vergine fa sestile con cancro e scorpione, oppure il capricorno, scorpione e pesci. Ecco, questi segni che si vengono a trovare a 60 gradi sono segni che fra di loro sono molto fluidi, in armonia, si comprendono molto bene e quindi ci può essere veramente una buona affinità. Vanno veramente d'accordo, quindi possono andare molto bene anche in altri tipi di collaborazione, ad esempio una collaborazione lavorativa. Nell'amicizia, al sestile, direi proprio che per eccellenza è quell'aspetto che premia l'amicizia, no? Che l'amicizia è un'altra affinità affettiva straordinaria. Non potremmo vivere senza gli amici, no? Che veramente sono anche loro il sale della vita. E infatti un aspetto interessante è che i rapporti d'amore fra segni che sono tra di loro in sestile hanno sempre quella nota di amicizia. Quindi al di là dell'innamoramento, al di là della parte fisica, dell'intesa quindi proprio di una chimica, no? Sessuale, c'è questa nota di amicizia. Quindi le persone che si ritrovano fra questi segni sentono proprio che possono condividere come se fossero un po' amici, no? E lo sappiamo che l'amicizia è anche complicità. L'amicizia è condividere interessi comuni, no? Fare delle cose insieme, cose insieme nel tempo libero, ad esempio, perché si hanno magari interessi comuni, si ha voglia di condividere proprio delle cose insieme, no? Magari si condivide lo sport, si condivide l'interesse per il cinema, oppure i viaggi. Ecco, questo lo si ritrova proprio fra i segni che tra di loro sono in sestile. Ecco, quindi vedete appunto la tabella e c'è un'altra cosa che vorrei aggiungere a questo proposito, che quando magari un rapporto fra le persone, un rapporto d'amore tra le persone che sono fra di loro appunto in sestile come segni si rompe, spesso rimane proprio comunque un filo di amicizia. Quindi quel rapporto non si rompe del tutto. Ovviamente non voglio dire che questo sia una regola sempre, una legge sempre, poi dipende come sempre dall'insieme del tema, no? Però molte volte questo può proprio succedere, no? Che rimane questo filo che continua ad unire queste persone fra di loro, no? Perché rimane comunque quell'affetto, rimane quella stima appunto che era parte del rapporto d'amore. Quindi questi appunto i segni in sestile. Andiamo pure avanti. Adesso invece arriviamo a quell'aspetto astrologico che si chiama quadrato e che sono 90 gradi dal punto di vista delle geometrie astrali. Qui di nuovo avete la tabella appunto di questi segni, quindi potete anche visionare rispetto al vostro segno. Vediamo per esempio leone, toro e scorpione, bilancia, cancro e capricorno e così via. Ognuno ha due segni con cui si trova inquadrato, così come erano due segni in sestile. Allora in questo caso il rapporto è un po' più complicato perché 90 gradi è un rapporto un pochino ostico, disarmonico e quindi può essere un po' più difficile trovare appunto sintonia fra chi appartiene a questi segni fra di loro in effetti così diversi, no? Prendiamo un esempio. Prendiamo l'esempio dell'ariete che ha questa quadratura con cancro e capricorno. Quindi è un elemento fuoco con acqua e con terra e sono appunto due elementi diversi proprio, no? Fra di loro cancro e capricorno rispetto all'ariete che fuoco. Sappiamo come l'acqua può spegnere proprio il fuoco perché l'acqua a volte entra un po' nella sua negatività, a volte è molto introverso, invece il fuoco è estroverso, esuberante, no? E quindi può essere molto difficile trovarsi con un segno che invece appunto è di acqua. Se noi guardiamo gli altri segni di fuoco, leone, toro e scorpione, abbiamo di nuovo terra e acqua. Guardiamo il sagittario che fuoco, abbiamo di nuovo vergine e pesci, quindi terra e acqua, no? Quindi non è facile appunto fra questi segni, no? E proprio il fuoco può anche seccare l'acqua, no? Pensiamolo che se c'è tanto fuoco l'acqua viene riassorbita e quindi il cancro può perdere magari quella sua nota di grande sensibilità, quella sua profondità, no? Quindi non è semplice. Ma anche fuoco e terra fra di loro non è così facile perché la terra appunto è ferma, è stabile come dicevamo prima, quando invece il fuoco vuole scoppiettare è tutta una vivacità, no? E quindi anche lì a volte i segni di terra possono un po' spegnere, no? Il fuoco. Al tempo stesso il fuoco che è sempre attivo può stancare tanto il segno di terra che a volte ha proprio bisogno di riposo, ha bisogno di tanto di tranquillità, invece questo fuoco vuole sempre essere appunto molto attivo. Però anche qui se noi ci lavoriamo un po' sopra, se ci andiamo incontro, quanto sono stimolanti questi rapporti, no? Pensiamo che appunto i segni di fuoco possono imparare ad andare più in profondità, possono anche imparare ad attingere un po' di più dalla loro essenza e anche nutrire meglio la loro parte sensibile perché a volte il fuoco davvero vanno, quelli di fuoco, un po' come dei cararmati, no? E quindi ecco che si possono ammorbidire, proprio addolcire un pochino. Al tempo stesso se noi guardiamo fuoco e terra, la terra può imparare a diventare un pochino più attiva, ad aprirsi proprio un po' di più e il fuoco imparare anche a concretizzare meglio quelli che possono essere le sue tante idee creative, no? A diventare proprio un pochino più pragmatico e quindi ecco che di nuovo noi troviamo la parola chiave che è quella dell'apprendimento e infatti anche nel corso della mia esperienza astrologica ho visto che delle coppie comunque che appartengono a segni fra di loro inquadrato riescono molto bene ad andare avanti nella vita, no? E quindi proprio a sostenersi e ad aiutarsi reciprocamente. Se noi per esempio guardiamo la quadratura che fanno fra di loro i segni di terra abbiamo l'elemento aria e l'elemento fuoco, no? Toro, Leone e Acquario, Vergine, Gemelli e Sagittario oppure Capricorno, Ariete e Bilancia. Quindi ecco non è semplice il rapporto con questi segni di terra con l'aria. Di nuovo qui abbiamo con l'aria un elemento estroverso, un elemento mentale tra l'altro che ha molto bisogno di dialogo e non sempre i segni di terra riescono ad incontrare questo dialogo, proprio ad andarci incontro. Sono segni anche questi molto attivi che non amano sicuramente la noia, quindi hanno sempre bisogno di stimoli e pertanto questo a volte appunto è difficile perché come dicevamo prima i segni di terra sono molto tranquilli, no? E a volte anche inamovibili, mentre l'aria lo vediamo è un elemento sempre in movimento, no? Però anche qui aria e terra possono imparare molto l'uno dall'altro, la terra appunto ad essere più vivace e anche a stimolarsi di più intellettualmente, aprirsi appunto di più al dialogo, mentre l'aria può apprendere a, anche in questo caso, proprio direi a concretizzare di più, perché molte volte quando c'è tanta aria in una persona le idee sono veramente tantissime, ma poi stringi stringi non si concretizzano in aspetti pratici, no? E i segni di terra insegnano proprio questo all'aria. Quindi anche qui tanto apprendimento. se noi passiamo adesso ai segni invece di aria, vediamo quali sono i segni appunto inquadrato, gemelli, vergine e pesci, bilancia, cancro e capricorno, acquario, toro e scorpione. Quindi abbiamo terra e acqua. Della terra abbiamo già parlato, vediamo l'acqua. Ecco, la combinazione tra due persone, acqua e aria, è la più difficile. Ed è questa quindi che veramente richiede tanto tanto impegno tra i due segni. La più difficile perché questi elementi sono davvero così diversi, no? L'aria appunto estroversa, frizzante, i pesci tendono invece all'introversione tantissimo e si perdono appunto molto nei loro meandri, andando un po' qui e un po' là questi... e c'è un po' questa negatività a volte, come dicevo prima, vanno un po' giù questi segni di acqua che a volte entrano in questo mood negativo proprio, che non va assolutamente per i segni di aria. Al tempo stesso l'aria che è sempre in movimento può stancare proprio, appesantire anche, no? E stancare l'acqua. Ma è la stessa cosa proprio per l'aria che... pensiamo proprio all'aria quando si creano le nuvole con l'acqua, ecco, c'è proprio un senso di pesantezza. Quindi non è facile fra questi segni. Però anche qui possono imparare tanto fra di loro, no? Perché l'aria può imparare ad andare più in profondità, ad essere più sensibile. Oltre ad usare il dialogo può anche apprendere a sintonizzarsi su livelli diversi, no? Più di sensibilità, più telepatici, diciamo così, no? Così come l'aria può... così come, scusate, l'acqua può imparare ad aprirsi di più, perché a volte l'acqua veramente si chiude tanto tanto in se stesse. Quindi imparare di più ad aprirsi, ad esprimere le sue emozioni, che sono tante, no? Mentre appunto l'aria può imparare a essere meno distaccata, perché certo l'aria riflette molto, pensa, ma a volte è anche un po' fredda e distaccata, no? Quindi anche qui può nascere un'interazione di grande apprendimento. E adesso veniamo ai segni, appunto, di acqua. Vediamo che i segni in quadratura sono bilanci ariete, per esempio per il cancro, quindi abbiamo appunto l'aria ed il fuoco, poi per quanto riguarda lo scorpione, leone e acquario, e per quanto riguarda i pesci, gemelli e sagittario, no? E appunto abbiamo detto già appunto quali sono appunto le combinazioni che si hanno fra questi elementi. ecco, quindi, rapporto un po' più difficile per concludere l'aspetto del quadrato, ma che può comunque funzionare ugualmente. E andiamo appunto avanti. Adesso arriviamo al cosiddetto trigono, cioè a quei segni che sono fra di loro a 120 gradi. Allora, qui parliamo dello stesso elemento, ed ecco che quindi c'è una sintonia assolutamente molto forte, no? Proprio perché i segni si riconoscono e hanno al tempo stesso però alcune differenze che permette di non sicuramente annoiarsi, ma avere comunque dei buoni stimoli, perché comunque hanno delle sfumature diverse, i segni che appartengono allo stesso elemento, per cui c'è sempre uno stimolo all'interno, però anche un grande riconoscimento. È chiaro che questi segni possono essere anche veramente ottimi amici fra di loro, no? Perché hanno tantissimi elementi in comune, quindi l'ariete con il leone e il sagittario, il toro con la vergine e il capricorno, i gemelli con bilancia e acquario, e il cancro con lo scorpione e i pesci. Quindi sicuramente sono relazioni fra di loro molto molto fluide. Proseguiamo e arriviamo a un aspetto molto molto interessante, che è quello del quinconce, e cioè quei segni che si trovano a 150 gradi fra di loro. E qui avete appunto la tabella di questi segni. Ora, questo aspetto è molto interessante proprio per le coppie. Perché? Perché fra questi segni c'è una chimica sessuale fortissima e quindi c'è un'attrazione che proprio molte volte porta le persone che appartengono a questi segni fra di loro. In uno studio fatto diversi anni fa da una coppia francese, la coppia Gauquelin, che aveva fatto tanti studi statistici perché loro desideravano comprovare attraverso lo studio statistico, che è uno studio diciamo molto scientifico, no? quello statistico viene sempre preso, no? Ad esempio, volevano dimostrare come attraverso una statistica si poteva comprovare la validità dell'astrologia. E quindi hanno fatto vari tipi di statistiche. Per esempio, una delle statistiche era quella di vedere appunto se un determinato pianeta messo in una posizione forte poteva dare l'attitudine a una certa professione. Per esempio, loro avevano analizzato Marte, no? Marte quando è in una posizione forte in un tema, determina persone che possono essere grandi manager oppure degli sportivi, ad esempio. E quindi avevano preso ad esempio diversi temi, un bel numero di temi, e quello per esempio era stato dimostrato, no? Che c'era sempre un Marte in una posizione importante. Bene, una delle cose che hanno fatto è stato anche analizzare le coppie. E che cosa hanno trovato? Che la maggior parte delle coppie che stavano insieme a lungo o di matrimoni avvenivano fra segni tra di loro a 150 gradi. C'è proprio una chimica particolare che è innanzitutto anche molto fortemente fisica, no? C'è un'attrazione forte tra le persone appunto di questo segno. e sappiamo come questa giochi comunque un ruolo importante chiaramente nella coppia, no? Ma dall'altra anche delle differenze tali, perché sono segni fra di loro davvero molto diversi, che proprio fa sì che le persone che appartengono a questi segni si stimolino tantissimo a vicenda e sentano molto le persone che appartengono ai segni fra di loro a 150 gradi che imparano veramente tanto l'uno dall'altro. E quindi ecco che sono rapporti profondamente evolutivi, perché quando noi cresciamo attraverso il rapporto parliamo proprio di evoluzione, che poi è il motore ed è la spinta delle nostre varie incarnazioni. E quindi qui avete appunto l'elenco e provate a pensare nella vostra vita se vi sono capitati dei rapporti con persone, rapporti chiaramente importanti che hanno significato qualcosa nella vostra vita, con persone appartenenti appunto a questi segni a 150 gradi. O magari vi trovate proprio adesso in un rapporto di questo tipo. Andiamo avanti, quindi grande attrazione. Ci sono poi i rapporti fra persone che si trovano nella ruota dello zodiaco l'uno opposto all'altro, ovvero in opposizione, 180 gradi. Beh, qui anche l'attrazione è fortissima, perché uno ha ciò che non ha l'altro. Qui vediamo l'elenco, ariete e bilancia, toro e scorpione, gemelli e sagittario, cancro e capricorno, leone ed acquario, vergine e pesci. Elementi diversi che si stimolano tantissimo a vicenda e anche qui c'è comunque una componente di attrazione fisica molto forte. Certo è che essendo dei segni veramente diversi all'opposto, a volte ci può essere anche l'elemento della tensione. Questo è abbastanza inevitabile, no? Prendiamo l'esempio, non so, cancro e capricorno, no? Acqua e terra, quindi il cancro molto sensibile, empatico e il capricorno a volte invece freddo, distante, molto razionale, a volte non è certo facile, no? In questo senso. Però quel fatto, quel fattore che c'è proprio una grande diversità, funge talmente appunto da stimolo che poi, ecco, la trazione è forte e ci sono in effetti tanti rapporti a due, proprio fra segni che appartengono così a queste vibrazioni così diverse. Pensiamo che questo accade un po' anche nel tema individuale, quando si ha il segno e l'ascendente fra segni opposti, c'è a volte un po' di tensione, no? Perché si oscilla fra due energie molto diverse fra di loro, però anche si compensano molto molto bene, no? Perché uno dà all'altro quello che all'altro manca, no? Quindi anche nella personalità è un bel connubio nella personalità stessa, no? Però anche la stessa cosa proprio fra i segni. Ok, quindi questa è un po' la penso di aver risposto anche in questo modo attraverso queste tabelle, appunto, alle vostre domande, no? A pensare un po' alle vostre relazioni importanti che avete avuto appunto nella vita. Ok, quindi direi che possiamo proseguire con la prossima slide. E qui vediamo appunto la sinastria fra due personaggi molto noti. Ho voluto scegliere il principe Carlo e la principessa Diana perché è una relazione che tutti conosciamo e che ha fatto un gran parlare di sé, no? E per cui diciamo che proprio per questo fatto può essere anche interessante vedere appunto un po' gli elementi fra di loro, se combinavano oppure non combinavano. Intanto io voglio anche sottolineare due cose importanti prima di arrivare a leggere qualcosina di questa sinastria. Sono abbastanza complesse le cose quando si fa una sinastria ma ci sono dei punti chiave che poi vanno valutati, no? Intanto che le relazioni sono effettivamente un aspetto complesso della vita, no? E c'è intanto una parte karmica per cui le anime si incontrano molte volte proprio perché hanno bisogno di rielaborare cose che non hanno risolto prima. Hanno certamente in molti casi anche il piacere di ritrovarsi ma sono proprio anime che si ritrovano spesso di vita in vita, no? Questo cosa vuole anche dire però? Che non è detto che in vite precedenti quelle due anime fossero negli stessi ruoli, assolutamente no, anzi il più delle volte i ruoli possono essere completamente diversi, no? Anche in sessi completamente diversi, no? Però ci sono anche vite in cui magari proprio con quell'anima procediamo sempre anche in un rapporto di coppia, no? Quindi questo è già un dato di fatto che implica appunto un aspetto in più da considerare nelle relazioni di coppia, l'aspetto karmico. Io tratto soprattutto l'astrologia karmica e quindi valuto proprio comunque i rapporti anche nell'aspetto karmico e ci sono nel tema, quando si fa la sinastria, si vedono molto chiaramente questi aspetti karmici e quindi se le persone si erano già incontrate in altre vite e facendo un'analisi si può anche vedere chi potevano essere queste due persone in altre vite, magari i ruoli proprio che hanno giocato e assunto in altre vite, no? Quindi anche questo è un aspetto molto interessante. Quindi proprio per questo, perché le anime si sono già incontrate precedentemente, perché quando si fa comunque una sinastria di coppia è difficile, veramente io non ho mai trovato una coppia che non si sia già incontrata in altre vite, perché c'è qualcosa comunque già di forte che ti spinge a ritrovare questa persona. E poi l'altra cosa anche da dire è che oltre a questo, quindi ripeto ci sono degli aspetti da elaborare così come la voglia anche di ritrovarsi, nelle relazioni ecco possono essere proprio anche appunto complicate proprio da questo aspetto di passaggi karmici, quindi non è solamente l'aspetto vibrazionale fra di loro, no? Che più o meno funziona, ma quello proprio che noi ci portiamo come retaggio da altre vite. Questo ha un peso proprio notevole appunto nel rapporto di coppia, no? Quindi è appunto molto molto più complesso di quello che noi possiamo pensare proprio per i nostri vissuti precedenti e quindi qualcosa proprio da considerare. E certo è che comunque ogni relazione ci insegna tanto, quindi anche quando una relazione poi è destinata a terminare ha certamente svolto un ruolo molto significativo all'interno del processo evolutivo della persona stessa, no? E pertanto le relazioni sono sempre appunto delle grandi maestre per noi, quindi questo è proprio un aspetto che mi interessa molto sottolineare e che quindi relazione karmica non significa che per forza la relazione poi funziona, ma che comunque quella relazione ha un significato importante per la nostra crescita. E anche poi, ecco, sì, questo è questo che voglio dire appunto proprio importante per la nostra crescita e quindi dobbiamo sempre comunque benedirle queste relazioni, no? Per quello proprio che ci insegnano e magari poi se un discorso non è concluso ci si ritroverà in una vita futura sotto anche ruoli diversi. Detto questo appunto del confronto appunto fra le persone, vediamo un attimino questa relazione appunto tra il principe Carlo e Lady Diana, no? E normalmente si comincia sempre dal segno di nascita, in questo caso noi ci troviamo con Lady Diana che era del segno del cancro e in questo caso la Lady Diana è all'interno di questo grafico, mentre all'esterno ci sono i pianeti del principe Carlo, mentre Carlo è uno scorpione. Qui ci troviamo di fronte a due segni che sono dello stesso elemento e pertanto due segni che sono in sintonia, si riconoscono appunto fra di loro, no? Ovviamente con le dovute differenze, ma sono dei segni in trigono e quindi qui noi vediamo un elemento di sinergia. Appunto, qui aggiungo un appunto, una nota, che è quella che comunque quando, anche quando poi comunque un rapporto alla fine non funziona, c'è sempre comunque qualche elemento di condivisione armonica, per cui quando due persone comunque si incontrano, stanno insieme e vivono una storia d'amore, c'è sempre qualcosa che li ha portate insieme, sempre, anche quando poi magari un rapporto è molto sofferto, c'è sempre qualcosa che li ha portate insieme e quindi vediamo comunque che c'è sempre anche qualche affinità, una motivazione profonda che li porta insieme. Ecco, quindi lo stesso elemento, quindi possiamo metterlo proprio come una nota di positività fra di loro. Certo, lo scorpione è più duro e più tormentato rispetto al cancro più fragile e noi questa fragilità nella principessa Diana l'abbiamo vista nel corso della sua vita, no? Anche se poi lei ha avuto una forte evoluzione. Ecco, poi ovviamente si guarda molto l'ascendente, no? Fra due persone. Allora qui abbiamo un ascendente sagittario per quanto riguarda la principessa e un ascendente leone per quanto riguarda Carlo. Di nuovo abbiamo due elementi di fuoco, quindi due elementi che tra di loro sono in trigono, quindi in perfetta sintonia, no? Stesso elemento seppur appunto segni diversi. Quindi un altro punto a favore di questa coppia, no? Perché avevano comunque una parte anche più estroversa, una parte più passionale fra di loro, sicuramente quella è la parte anche passionale che li ha portati insieme, anche se poi questa passione certamente non è durata nel tempo, no? Quindi un altro elemento proprio che li ha accumulati, no? Ecco, poi è molto importante anche vedere la luna, perché la luna ci dice molto sulla parte emotiva, la sfera emotiva della coppia, quindi la parte emozionale molto importante nella coppia. E allora, per esempio, qui abbiamo, per quanto riguarda Lady Diana, una luna nel segno dell'acquario. E questa luna nel segno dell'acquario ci dice moltissimo di quella parte che appunto aveva Lady Diana per quanto riguarda l'aspetto suo molto trasgressivo anche, no? Che comunque non riusciva a stare del tutto all'interno delle regole della casa reale. Lei pur essendo un cancro che di solito è tradizionale, di solito ama poi proprio questi ruoli, lei sognava sin da piccola di essere una principessa, e questo ci sta molto con il cancro, no? Che poi è anche un segno sognatore, ma aveva questa parte acquario. Infatti lei si è imposta con la regina e ha voluto essere lei a seguire i suoi figli e non farli seguire sempre da una tata, cosa che nella casa reale non si era mai fatta. Ecco la parte acquario, no? Voleva avere un suo spazio anche maggiore di libertà e di autonomia e di indipendenza, tant'è vero che lei anche prima di sposarsi ha fatto un periodo in cui ha lavorato, no? Quindi un po' come diciamo una persona più comune. Lei comunque apparteneva a una famiglia aristocratica e sapeva di poter essere nel suo futuro una delle candidate, no? Ma questa rottura noi la vediamo molto forte poi un po' di più nella seconda parte della sua vita, quando lei a un certo punto, non stando bene davvero in questo rapporto con il principe Carlo che l'ha portata anche a avere forti problemi emozionali che si traducevano nella sua anoressia, no? Che poi tra l'altro è anche un aspetto che a volte si manifesta nel segno del cancro, proprio questo rapporto col cibo difficile. Ha deciso di rompere con questo rapporto, no? E quindi ha avuto questo coraggio che è dato tanto da questa luna in acquario, no? E qui troviamo anche però un elemento di non sintonia con questa luna in acquario, con il principe Carlo. Perché? Perché il principe Carlo, scorpione, ascendente leone. Quindi lo scorpione e l'acquario tra di loro non sono in sintonia. Tra l'altro lo scorpione cerca spesso di manipolare, no? La personalità e quindi controlla tantissimo, c'è un forte senso del controllo che sicuramente la principessa, sagittario che è un segno libero con una luna in acquario, un segno che ha tanto bisogno di spazio, non avrebbe accettato con facilità. Quindi questo è un punto di rottura forte nel tema. E la luna sappiamo come in un tema femminile riguarda non solo la sfera emotiva, ma proprio anche tratti della personalità. Pertanto era molto diversa questa personalità da questa parte scorpionica, ma anche il leone che è opposto, no? All'acquario. Quindi in un secondo periodo della sua vita sicuramente Lady Diana ha espresso molto bene questa sua luna, rendendosi libera, affrancandosi da questa storia dolorosa per lei, diventando anche un'icona molto amata da tutti, molto popolare e anche scegliendo di vivere poi dei rapporti piuttosto trasgressivi, tra cui l'ultimo poi quello con Dodi Al-Fayed, che è stato assolutamente trasgressivo se pensiamo che lui figlio, era figlio di quell'Al-Fayed che non era assolutamente ben visto dalla casa reale. Il padre era il fondatore dei magazzini, aveva messo in piedi magazzini Harrods, ricchissimo, ma la regina Elisabetta non aveva mai dato la cittadinanza a questo personaggio, nonostante lui l'avesse chiesta molte volte alla regina, no? Quindi era abbastanza in viso questo personaggio, quindi la principessa diciamo che è passata oltre a tutto questo, no? E quindi è anche la luna comunque del principe Carlo, no? Che si trova appunto proprio lì, noi la vediamo nel segno comunque, qui, la luna che si trova nel segno dell'ariete, no? Eccola, vediamo, questa luna che si trova nel segno dell'ariete, molto diversa questa luna di Carlo rispetto al segno di nascita di Lady Diana, cancro e ariete tra di loro hanno grosse difficoltà. Una luna in ariete non sensibile e quindi che poteva passare sicuramente a volte proprio, come dicevo prima, un po' come un cararmato su quegli aspetti più sensibili della personalità di Lady Diana. Quindi vedete che c'erano comunque già solo da questi tratti alcune distonie abbastanza forti fra di loro che potevano già far pensare che poteva non tutto certo essere rosa e fiori fra di loro, no? Ecco, questi aspetti. Per il resto vediamo ancora questo tratto e poi voglio passare a un altro tipo di tema che mi piace presentarvi. Le due veneri invece, toro e bilancia di lui, erano invece in quella sinergia appunto del rapporto a 150 gradi, quindi con quell'attrazione che sicuramente c'è stata almeno per un certo periodo fra di loro. Però vediamo che appunto non tutti gli elementi erano così in sintonia. Andiamo avanti a vedere che cosa? A vedere quello che si chiama tema composito, vabbè qui comparato composito o integrato, no? Tema integrato, vabbè. Sì, va bene. Tenete presente tema composito o integrato, viene chiamato. Che cos'è questo tema? Quello che vedete qui tra Lady Diana e il Principe Carlo è il tema come se loro fossero state una persona sola, il tema della coppia. Questo è un tipo di tema che è stato intuitivamente pensato da un grande astrologo americano, Robert Hand, un bravissimo astrologo veramente geniale, che ha pensato che poteva essere molto interessante mettere insieme appunto fra di loro in maniera matematica, no? Cercando il punto di mezzo fra i vari pianeti della coppia, no? Quindi si trova al punto di mezzo, no? Facendo appunto un calcolo ben preciso e si realizza così il tema della coppia. E questo che cosa ci dice? Ci dice molto se la coppia potrà funzionare nel tempo, perché qui vediamo proprio la coppia com'è lei, no? In questo tema integrato, ripeto, o anche detto composito, qui vediamo ad esempio che il sole che rappresenta lui è in vergine e la luna che rappresenta lei, quindi Lady Diana in pesci e qui vediamo appunto segni opposti, quindi fra di loro anche in attrazione, ma anche con tante tante differenze. Qui vediamo una parte legata al Principe Carlo di terra, quindi un po' più rigida, un po' più fredda e distaccata e spesso lui ha dato questa impressione di freddezza, no? E invece di nuovo lei abbiamo un aspetto molto legato all'acqua, no? Poi i pesci in assoluto sono molto, veramente molto sensibili, molto empatici, hanno molto bisogno di amore, di questo senso di unione e quindi qui vediamo una bella diversità fra di loro. Vediamo anche che rimangono come ascendente sono toro, quindi qui vediamo una parte di realizzazione pratica, cosa che è successa perché comunque loro sono diventati coppia che ha concretizzato attraverso il matrimonio, no? E hanno anche proprio concretizzato in un impegno, un impegno di ruolo che si vede anche molto bene nel medio cielo di questo tema di coppia che cade in capricorno. Il medio cielo rappresenta il ruolo sociale, la realizzazione della coppia, quindi molta ambizione e l'ambizione anche proprio di svolgere un ruolo, no? Un ruolo legato in questo caso alla nazione. È chiaro che c'era una parte di ambizione in Lady Diana a diventare comunque principessa e così il principe Carlo a sposare una donna comunque molto bella e affascinante per creare, anche procreare poi dei figli che fossero comunque anche belli fisicamente, no? Perché questo è anche un aspetto che viene preso molto in considerazione nelle case reali, no? C'è un Giove molto in alto lì al medio cielo in capricorno che indica la posizione sociale di questa coppia, però è anche vero che Giove non si esprime molto bene in capricorno e pertanto può rappresentare appunto quelle difficoltà che comunque la coppia ha avuto, no? E anche quell'immagine che nel tempo come coppia è andata sfiorendo, perché comunque da un lato la gente vedeva questa principessa triste, come spesso è stata anche definita, e questo principe Carlo piuttosto freddo e anche poi con la storia con la Camilla che si è scoperto che comunque è stata una relazione che lui ha portato avanti anche durante il matrimonio con Lady Diana e quindi che ha un po' sicuramente offuscato l'immagine di Carlo in quel periodo, no? E quindi questo si vede anche in questo medio cielo. Ma soprattutto quello che è molto interessante, che fa anche capire che questa coppia avrebbe avuto difficoltà comunque a durare nel tempo, è proprio che nella casa 7, quella casa del matrimonio, che quindi è importantissima nel tema comparato, abbiamo un Saturno. Saturno in Scorpione che indica comunque i tormenti di questa coppia, le difficoltà, le prove, sicuramente anche alcune difficoltà a livello proprio di affinità fisica a un certo punto, e il fatto che ci sarebbe stata una rottura, perché Saturno nel tema di nascita, o in un tema appunto di coppia integrato, può proprio rappresentare il divorzio, no? Quindi la separazione. E quindi in questo tema, vedendolo al momento magari proprio del raffronto fra di loro, sarebbe già visto come astrologi che avrebbe avuto sicuramente le sue difficoltà comunque a durare. Sarebbe sicuramente durato per un tot, per un periodo, perché comunque in questo tema ci sono degli aspetti anche positivi, no? All'interno del tema, però questo aspetto è veramente parlante, lo trovo veramente parlante. Ecco, questi sono alcuni dati, no? Per farvi capire come si possono raffrontare fra di loro i temi. È molto molto interessante, è un piccolo assaggio di quello che si può fare come lettura attraverso i temi. Quindi da un lato, per concludere, noi possiamo vedere la compatibilità, quindi vedere quanto è ampia questa compatibilità e quindi eventualmente quanto la coppia potrà avere cose da smussare o si troverà appunto in una sinergia piuttosto fluida, e invece anche possiamo vedere quanto appunto potrà una coppia eventualmente durare, cioè quanto forte è quel rapporto di coppia e quali sono quindi anche i punti di forza, i punti deboli della coppia stessa, no? E quindi questo lo trovo molto interessante. Io utilizzo sempre in una coppia il tema integrato, non potrei farne a meno perché mi dice veramente tanto sulla coppia. Sì, mi sembra di aver, insomma, detto un po' tutto, quello che intendevo dire in questo incontro. Vediamo se c'è qualche altra, qualche, magari qualche domanda, ma non mi sembra di vedere al momento qualcosa a questo proposito. E quindi io vi lascio qui con questo incontro astrologico, vi lascio andare appunto a letto, a dormire, perché ormai siamo già in tarda serata. Vi ringrazio per avermi seguito comunque in questo spazio di Bridges of Light. E cos'altro dirvi? Vi aspetterò di nuovo per un altro appuntamento serale astrologico e la prossima volta ho scelto che vi vorrò parlare di dei temi, di alcuni medium, visto che questo gruppo si interessa molto di medianità e vedremo quindi come e quali sono, ecco, i segni della medianità in un tema astrologico e analizzerò con voi i temi di medium molto molto famosi. Quindi ci rivediamo qui sicuramente su Bridges of Light, sempre con tanto piacere, con tanta gioia e vi auguro una notte serena. Ciao a tutti e grazie per essere stati qui con me. Un bacio di nuovo, ciao!